Ciao a tutti carissimi, bentornati su Age of Civilizations 2 Amanti della strategia, amanti della storia Proseguiamo il nostro cammino, la nostra voglia di conquista, di diplomazia del nostro stato pontificio Proseguiamo questo gioco Tanti di voi sono stati favorevoli alla continuazione di una serie di Age of Civilizations 2 Devo dire grazie a tutti per i like e le condivisioni Questo è un gioco che secondo me dovete acquistare solo 5 euro su Steam Non dico altro Adesso partiamo con la partita e continuiamo lo stato pontificio Ragazzi sono tornato sulla mappa 21 marzo 1441 Turno 4 Purtroppo non so come è possibile Questi purtroppo sono giochi che sono indie game Quindi a volte c'hanno dei bug Non mi ha salvato la conquista di Siena ragazzi che avevo fatto l'altra volta Quindi adesso dobbiamo riproiettarci nuovamente a conquistare Siena Ci riproviamo Sarà forse abbastanza simile all'altro Vado un pochino avanti Faccio io un pochino di turni E poi vi riporto immediatamente Il combattimento con Siena Sperando anche di fare qualcos'altro Che quest'oggi avrei voluto Sinceramente Conquistare anche la zona di Florence Firenze Come vedete Bologna Firenze Questa dinastia qua ragazzi di Florence Ma non so se riesco Sinceramente Vista purtroppo quello che è successo Non mi ha salvato il gioco L'avevo Vi garantisco l'avevo salvato Ma lui non l'ha voluto fare Perché È infame Vabbè a parte questo Intanto vedo che qua 156 Sono andate Barche nel mar Mediterraneo Anche altro 50 qua davanti Sinceramente io non ho mai messo Cose del genere L'ha fatto da solo? Non lo so Non lo so sinceramente Sono un po' così Un po' amareggiato in questo momento Ma proseguiamo Il nostro gioco Dai Adesso metto un po' Recluto un pochino Sui vari Sulle mie varie province E poi vado a riconquistare Un'altra volta Siena Speriamo di farcela Dai Sono tornato Dopo una piccola pausa Anzi Ho continuato a giocare Ho ripreso un'altra volta Siena Dopo aver ripreso Siena Ho chiesto comunque La pace a Siena E ai suoi abitanti Ho fatto una coalizione Insieme a Siena Infatti vedete Ho 584 unità Dello Stato Montificio Sul territorio di Siena 150 a Terni 199 a Civitavecchia Quasi 200 a Roma E come sempre Rimini Urbino La civiltà di Urbino Rimini 726 mi ha aiutato Nella guerra Ovviamente contro Siena Adesso Adesso Ci sta questo territorio Bastia Che non è niente male E potremmo conquistarlo A mio avviso Queste due La Corsica Ragazzi Agliacce e Bastia Però Fanno parte di Genoa Ovviamente Quindi è un pochino Complicato Intanto Vi faccio vedere Ho migliorato le relazioni Con Marsiglia E ho messo 140 unità Ad Avignone Ho tentato anche Di fare uno scambio commerciale E prendere la zona di Nims Come vedete qua Ma Marsiglia Non ha accettato Io davo soldi Loro la provincia Questo non è stato accettato Di qua invece Ho migliorato le relazioni Con Granada Perché noi Ricordiamo come nemici Abbiamo Merinidi Questo è stato qua Di Merinidi E Tlemchen Ugualmente Ho chiesto Una relazione Amichevole Almeno Se c'è una guerra E stessa cosa A Lisbona Quindi Ci avremo contro Castiglia e Leona Guardate le province Spagnole Quelle saranno Veramente Toste Io adesso Andrei un pochino Avanti ancora Faccio Un altro po' di Secondo me Un po' di Reclutiamo un pochino A Civitavecchia Per esempio E a Roma 178 Mi costa 890 di monete Non 1781 Stiamo andando bene Comunque Perché vi dico Stiamo al 76% Di felicità 70% Radio di crescita Buono 100% Stabilità Della provincia Abbiamo aumentato A 30.747 Unità La popolazione Non c'è Ribellione Bene anche Livello di sviluppo Economico Insomma Continuiamo bene Con lo stato pontificio Ragazzi Andiamo avanti Qui possiamo Io non sciolgo Niente Rimaniamo Qua a Siena Perché Siena Come vedete A 0 0 persone Non abbiamo 584 unità Andiamo avanti Andiamo avanti Ragazzi Altro turno Altro turno Siamo arrivati Comunque al 29 aprile 1444 I anni sono molto Ci siamo al turno 25 Abbiamo 6.9 Punti diplomatici E 4.8 I soliti punti di movimento Ora i punti diplomatici Io vorrei offrire Diamo un po' Se Siena Eh no È mia Siena E comunque sia Dobbiamo chiedere A Siena Un'alleanza Secondo me Visto che Sono riuscito A conquistarla E poi a dargli Comunque la pace Perché siamo sempre Lo stato pontificio Io vado un po' Anche con la storia Ragazzi Offriamo quindi L'alleanza Probabilità Dice bassa 2.0 Io ci provo Manda a proposito Io l'ho mandato Adesso vediamo Che ci rispondono In più miglioriamo Ancora le relazioni Con la Provenza Tenterò di fare Un'offre alleanza Ma è sempre bassa Quindi niente Offre alleanza Miglioriamo ancora Eh Patto di non aggressione Scusate perché Abbiamo lì Il nostro stato Eh Manda a proposito Patto di non aggressione Con la Provenza Qui sopra Invece molto grosso Lo stato Questo che stato è Ah la Francia Già la Francia unita Tutto lo stato Vedete Tutti questi azzurri Sono la Francia Questo invece Fa sempre parte Dei nuclei della Francia Vedete Tutta questa zona qua Di Albi Montpellier Vedete Besier Tutta la Francia Va bene Intanto poi Non vi ho detto che La Bosnia E bastardi Ci hanno mandato Un insulto E io adesso Glielo rimando Un'altra volta Come anche la parte inglese Gli inglesi ci hanno mandato Un insulto Bosnia Io dico Manda un insulto Non manda Un'altra volta Un insulto A sti bastardi Vai Ok così Poi come sempre Andiamo A migliorare Le province Andiamo Su Roma Ricludiamo qualcuno 153 Vanno bene 765 Monete Va bene così Vai Andiamo avanti Altro turno Siamo a giugno Del 1444 Ragazzi Siena intanto Aumenta Le Le sue Unità 172 Ma noi ne abbiamo Sempre 584 Teniamo il controllo Su Siena Vorrei farli diventare I vassalli Se riesco Vediamo Intanto Patto di un'aggressione Accettato Con la Provenza Mi sembrava logico E poi Proposta delle ansia Rifiutata Con Siena Ha ripetato La proposta Siena Eh no Io voglio che diventate Vassalli Quindi vediamo un po' Se riesco Possiamo formare Un'unione Vediamo un po' Opinione Ci abbiamo più 21% Dopo che l'abbiamo Conquistati Io direi Formiamo un'unione Va Manda a proposito Vai Ci prendiamo Sta provincia Che comunque Già Nostra In qualche modo Aumentiamo ancora Reclutiamo No fermo Non muovere Reclutiamo qua A Terni La zona di Terni Reclutiamo un pochino Di 137 Va bene E andiamo avanti Altro turno ragazzi Proseguiamo Vi piace Commentate Mi raccomando Conto su di voi Turno successivo Siamo al 27esimo turno 15 settembre 1444 Io vorrei Però poi muovere Delle petine No No Nulla Voglio muovere Un po' di pedine Muoviti Muovi Scegli la provincia Qui voglio muovere Però tipo Un 150 unità Che non è guerra Ma me le fa muovere Senza problemi Vedete Così aumentiamo ancora Il nostro possesso Su Siena Intanto vediamo Siena ha rifiutato Di formare un'unione Eh Siena Inizia a dar fastidio Vabbè L'avevo conquistata Poi mi fa così Vabbè Miglioriamo ancora Le relazioni con Siena A sto punto Vediamo Siena Migliora le relazioni Miglioriamole ancora Però poi ragazzi Voglio aumentare Nuovamente Voglio reclutare Un bel po' di Di unità Perché voglio andare Ad attaccare La parte di Arezzo Però Firenze Bologna Non so Sinceramente Firenze Livorno Lucca Non so Quante unità Hanno Questa è una zona Che vorrò conquistare Magari non adesso Poi con Napoli Invece Direi di Patto di non Aggressione Lo rimando Un'altra volta Manda a proposito Con Napoli Non si sa mai Guardate Che territorio Hanno Guardate le province Meglio non fare Scherzetti Fa andare qua Andare ancora A reclutare A reclutare Togliamo questa Schermata Reclutiamo Altre 124 unità Qui su Civitavecchia Vai Poi Un pochino Di relazioni esterne Granata Mi serve Il sultanato Di Granata Granata Scusate Granata Sei Buonanotte Direi Se offro Alleanza E' sempre Bassa probabilità Quindi Facciamo che Miglioriamo le relazioni Vai Miglioriamole Miglioriamo ancora Un pochino Con Tlemchen Perché se faccio Offrire alleanza Mi dice sempre Molto bassa Vedete Quindi Miglioriamo le relazioni Un'altra volta Con Tlemchen Vai Manda il diplomatico Sto facendo Molta diplomazia Come sempre Siamo lo stato Modificio Dobbiamo farla Questa è la storia Dai Avanti Turno successivo Allora Abbiamo un po' Patto di un'aggressione Proposta è stata Accettata Ovviamente Da Napoli Ci ha accettato Patto di un'aggressione Con la di Slaus Bene Bene Napoli Ci ha accettato Questa cosa Tanto che Abbiamo 734 unità Come vedete Teniamo sempre Sotto Scacco Siena Siamo arrivati Ad ottobre 1444 Io aumenterei Un pochino Anche Reglutiamo Qua qualcuno 116 Sì Lato Avignone Reglutiamo Anche là Molto bene Solo tre punti Ovviamente Sono rimasti Solo 2.9 Di diplomazia Io direi Di fare Anche con Bologna Con Bologna Una sorta Di Ferrara Scusate Poi c'è la parte Di Bologna Questa è Ferrara Vorrei Fare una sorta Di Migliorare Le relazioni Se faccio invece Forum a unione Vediamo Manda a proposito Vediamo un po' Se riusciamo a Rienirci a Ferrara Così Circondiamo Sicuramente La parte di Firenze Lucca Livorno Tutta la Toscana Tagli Mandato pure Questo Avanti Altro turno Hanno accettato Hanno rifiutato A fare un'unione Ferrara Madonna Opinione A sto punto Miglioriamo Prima le relazioni Va Migliorare le relazioni 0.5 Torniamo qua Facciamo ancora Reclutiamo un pochino Di personale Qui nella zona Di Terni Altri 107 Vai Avanti Altro turno Successivo Siamo al 24 gennaio Del 1445 Gli anni Calcolate che 4-5 anni Sono andati così Con 30 turni Siamo arrivati Qui invece che dice Insulto Dalla vecchia confederazione La provincia di Zurico Maledetti Maledetti No questi mi stanno Veramente sul cavolo Già me l'hanno fatto E io mando pure io Un insulto Mando un insulto Alla vecchia confederazione Ah non ho i punti Ragazzi Non ho i punti diplomatici Non possiamo Vista la situazione Io chiedo Aiuto Alla provincia De Savoia Quindi vorrei Io vorrò migliorare Le relazioni con i Savoia Me lo permette? No Facciamo la prossima Ragazzi Prossimo turno Intanto Continuiamo A reclutare qualcuno Ragazzi Anche qui nella provincia di Latina Recludiamo qualcuno 100 persone 100 unità Vanno bene Ok avanti Tanto stato Motificio abbiamo Un progresso Di circa Del 56% Andiamo un po' A controllarlo Che altrimenti Abbiamo Per turno Andiamo a prendere Solo 463 Ragazzi Io aumenterei Io aumenterei un pochino Le tasse A sto punto Per forza Per forza 551 ogni turno Ho aumentato un po' Le tasse Per fare l'esercito Abbiamo anche aumentato Al 22% Come vedete Si è aumentato Questo aumenta da solo Ragazzi Gli investimenti Aumentiamo anche un po' Gli investimenti 22% E anche le ricerche Però torniamo 23% Anche un po' Di tasse Ancora Sperando che non mi Ammazzano 400 Quasi di Vediamo a 400 Dai 400 Di Monete Di guadagno Tante spese Ragazzi Guardate Il reddito totale 4.477 4.075 Le perdiamo Come amministrazione Vabbè Avanti ragazzi Avanti Abbiamo aumentato ancora Un pochino Però Gli investimenti Le ricerche Un po' Tutto L'esercito Va bene Così Avanti Intanto Abbiamo migliorato Le relazioni Con Ferrara Siamo al 31esimo Turno Marzo 1445 Bene Così Ferrara Borso d'Este A due province Abbiamo migliorato Sicuramente Con un po' Di diplomazia Adesso Dobbiamo però Andare A fare Diplomazia Con Asti Quindi Savoia Voglio Il Monferrato E anche La parte No Scusate Prima Besançon Questa parte Qua Ragazzi Voglio Migliorare Con i Savoia Appunto Lo dicevo Prima Voglio Migliorare Le relazioni Sì Eh no Non ce la facciamo Mannaggia Questi punti Diplomatici Niente Aspettiamo A questo punto Reclutiamo Ragazzi Reclutiamo Ancona Recluta 87 unità Avanti Siamo andati avanti Siamo a maggio 45 Tanto vedo che il Sultano di Granata Fa guerra Con Castile Leon Eh Eh ma non possiamo Aiutarli Mi dispiace Vi faccio vedere La situazione Guardate qua Castile Leon Quanto è forte Sultanato di Granata Che comunque sia Ha guadagnato Cordoba E ha guadagnato pure Questa zona di Jahen Jahen Cordoba Guardate Stava a parte Il sultanato di Granata Complimenti a Granata Si sta espandendo La parte di Granata Complimenti Anche qui sotto La parte di Gibraltar Vabbè Lo sapevamo già Adesso si conquisterà pure Questa parte di Ubeda A questo punto Vediamo Intanto andiamo avanti Ragazzi Io farei una cosa A questo punto Io attaccherei Ve lo dico subito Attaccherei Arezzo Così facciamo un po' Di movimento Allora recludiamo Un altro po' Di persone La Tancuna Adesso recludo Un pochino io Ragazzi E poi Arrivati a un certo punto Attacchiamo E vi faccio vedere Dai Ragazzi Ho iniziato la guerra Contro Firenze Intanto vi faccio vedere Firenze non è in guerra Con Urbino Qui Che cosa ci dice Migliorando le relazioni Con Milano Ok abbiamo migliorato le relazioni Anche con la parte di Milano Firenze non è in guerra Con Siena Siena contro Firenze Però c'è la guerra Scusate Civiltà Michevolica Sia Leon D'Inghilterra Stato Pontificio In guerra con Firenze Urbino e Firenze Appunto in guerra Siena in guerra Con Firenze Però ragazzi Purtroppo ci hanno sconfitto Ho fatto l'invasione di Arezzo Loro hanno messo un sacco di unità Non me l'aspettavo E mi hanno fregato Mi hanno fregato Turno successivo Vediamo che succede Ci stanno attaccando Adesso Arezzo Sta attaccando Le nostre unità Qui a Terni Ma dovremmo essere di più Sinceramente E Siena intanto Si sta Si siamo più forti noi Credo Spero Non lo so Sinceramente Andiamo prossimo turno Stato Pontificio Infatti risulta vittorioso Nella battaglia di Terni Bene Gli abbiamo tolto 286 unità Loro ce ne hanno tolte 220 Ma va bene così Dai Vittime civili 9 Perdita economica 17 Per noi Loro Vittime civili 9 Perdita economica 17 Uguale Bene Ce l'hanno provato ad attaccare E non ce l'hanno fatta Già questo è importante E Rimini E Siena Ci stanno aiutando Aumentiamo ancora Quindi qui Su Terni Aspettate No Non mi fa aumentare niente Perché siamo in guerra Quindi non mi fa fare nulla Prossimo Vai attacchiamo con 1113 232 Forse Arezzo La prendiamo qua Ragazzi Perché abbiamo tolto Uno contro uno Qui vedo pure bonus Vediamo un po' Tipo il gira Gira dati Una cosa del genere Vedete bonus di differenza Tra i dati Uno uno Qui Veramente ce la stiamo giocando Bell'attacco E Urbino Risulta vittoriosa Grazie Urbino Grazie Urbino Che si è preso Il territorio Di Arezzo Vabbè Se l'è preso Urbino Urbino Risultata vittoriosa Facciamo i complimenti a Urbino Ma noi abbiamo mosso Le nostre pedine Su Urbino Visto che è il nostro Vassallo A Terni A questo punto Prossimo Vediamo un po' Che succede Ah Qui ci sta migliorando Le relazioni con Gerid Io ho fatto Ho migliorato Delle relazioni Anche qua sotto Vi faccio vedere Scusate Prima non l'ho fatto vedere La parte di Gerid Perché Questa qua Fesanna La parte di Fesanna Ci ha domandato un insulto Quindi io intanto Le popolazioni vicine Le Faccio amiche Come si dice Comunque Miglioro sicuramente Le relazioni Andiamo avanti Io direi Di reclutare qua qualcuno Pochi però 74 soli Ma intanto Reclutiamo Che è importante Roma Ne ha 406 Sempre 100 di Latina Civitale Che 213 Andiamo avanti così Intanto lo stato moltificio Abbiamo messo 232 pedine Qui Ad Arezzo E l'abbiamo preso Intanto Livorno È stato preso Da Siena Ragazzi Non me ne erano reso conto Scusate Ma Livorno È stato preso Da Siena Quindi abbiamo migliorato Le relazioni E loro Si sono presi Livorno Adesso L'ultimo che rimane È l'attacco a Firenze Presa Firenze Presa Firenze Da Urbino Arezzo però rimane a noi Perché 796 Hanno preso anche Firenze Ragazzi Quindi la nostra coalizione Abbiamo fatto a tre Siena La parte di Siena La provincia di Siena La provincia di Rimini Urbino E noi Siamo riusciti a prenderci Anche tutta la Toscana Quindi adesso Al prossimo Sarà Lucca Alla prossima Andiamo contro Lucca Amici miei Tanto qui Aumentiamo un altro po' Reclutiamo altre persone Sulla parte di Terni Pontificio E Urbino Guardate i nuclei Che abbiamo Adesso abbiamo aumentato le nostre province Vi faccio vedere Allora Stabilità bassa L'intro di provincia di tutto Dalla bassa stabilità Quindi adesso dobbiamo fare un pochino Di cosetta anche a livello economico Poi Guardate Firenze Arezzo Mi dice 24% 28% 100% Tutte queste Sono nostre Roma Ancona Rimini Latina Vignone Civitavecchia Terni Ancona Rimini Fa parte della nostra alleanza Arezzo Firenze ancora non al 100% Ma solo al 25% Al 28% Ok Poi La proposta appunto è stata accettata L'abbiamo vista Vediamo un po' Quest'altra proposta Richieste Queste sono le richieste Che mi fa Siena Urbino Richieste Livorno Urbino Arezzo Firenze Trattato di pace Qui l'indice accettata Scusate Sto leggendo anche io Perché questa non riesco a capire Siena Trattato di pace Accettata La parte di Firenze Accettata Stato pontificio Urbino Offerta di pace 100% In favore dell'aggressore Ah Vogliono un'offerta di pace Ah io rifiuto Sì Rifiutato La pace Non so a cocchino Me ne frega niente Offri pace a questa civiltà Firenze No Non offro assolutamente Nessuna pace Perché Firenze È diventata nostra Ragazzi Firenze è diventata nostra Tra noi E Urbino Adesso Sinceramente Visto che Siena Sta qua Luca e Livorno S'è soppresa loro Poi potremmo anche Tentare di prenderci Siena E Livorno Però prima di questo A sto punto Io chiedo Un'unione Pure con Siena Per forza Formiamo pure un'unione qua No non possiamo Perché abbiamo Pochi punti Diplomatici Va bene ragazzi Mi fermo qua Spero vi sia piaciuto È molto tattico Strategico Storico Melleageriale Lo sapete Può piacere Non piacere Ma secondo me Questo è un gran gioco Abbiamo conquistato Parecchie province Altre tre province In più abbiamo ragazzi Rispetto a prima Sono contento Quindi like Condivisione Se vi è piaciuto il video Continuate a seguirmi Mi raccomando Anche a Natale Anche a Natale Vorrei fare una live Ve lo dico Magari su questo Su altri giochi Di voi lo decidiamo insieme Ho mandato Mando ogni tanto Dei messaggi Dei sondaggi Su Youtube Ogni tanto controllateli Rispondetemi Mi raccomando Che dirvi Se volete rimanere Sempre incollati Iscrivetevi ovviamente E poi campanellina Di notifica Così vi arriva sempre E state incollati Al canale Dello e ai suoi giochi Mi raccomando Un abbraccio Ragazzi Alla prossima Ciao ciao